Musica Buonasera e bentrovati in diretta dagli studi di Telebari in apertura del nostro telegiornale una notizia dell'ultima ora una donna di 41 anni sarebbe stata uccisa a coltellate dal marito forse a margine di una lite in un appartamento in una zona periferica del comune di Andria l'uomo secondo quanto appreso dalle prime notizie avrebbe chiamato il 118 dicendolo a coltellata venite l'omicidio sarebbe avvenuto in presenza dei due figli minori della coppia sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno Restiamo sulla cronaca Un 67enne e la sua compagna di 44 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Canosa con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni delle due figlie della donna Avrebbe molestato sessualmente le figlie della sua amante fin da quando le piccole non avevano neanche 10 anni e questa la gravissima accusa che il PM della procura di Trani Lucio Vaira contesta ad un artigiano di 67 anni residente nella BAT arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Canosa insieme con la donna Una 44enne per i magistrati responsabile di non aver impedito il perpetrarsi degli abusi Le indagini sono state avviate dopo che in occasione della notte di Halloween la figlia più piccola dell'indagata, una ragazza di appena 16 anni aveva avuto un malore in discoteca a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti da cui poi la confessione di ciò che lei e la sorella più grandi avrebbero subito nel corso degli anni dal compagno della madre I due interrogati dal GIP Anna Lucia Altamura hanno sostanzialmente respinto le accuse Per cristallizzare il racconto delle vittime e vagliare la loro attendibilità il GIP ha fissato per il prossimo 19 dicembre il loro ascolto nelle modalità protette dell'incidente probatorio alla presenza della psicologa Michela Russo E cambiamo argomento polemiche in Consiglio regionale dopo una discussione sul mancato rinnovo delle commissioni Il centro-destra abbandona l'aula e Fratelli d'Italia convoca una conferenza stampa urgente Sentiamo Il presidente Emiliano ha schiacciato il bottone della bomba atomica E lui l'artefice di questo Se è vero come è vero che continua a trattare il Consiglio regionale è come se fosse uno dei tanti adepti al suo servizio E noi siamo stati costritti, il nostro malgrado, perché mai abbiamo assunto un atteggiamento del genere Anzi, ma adesso basta, non è possibile trattare i consiglieri di minoranza Alla strega di quattro ragazzini da chiamare quando servono Noi abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare tutti i cittadini pugliesi Anche coloro che non la pensano come lui E il Consiglio regionale non deve essere uno strumento di mercimonio nelle sue mani Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Francesco Vento La margine della conferenza stampa Convocata dopo la decisione del centro-destra Di abbandonare i lavori in aula per protestare contro la decisione del centro-sinistra Di rinviare il rinnovo delle commissioni consigliari Il Consiglio regionale si è riunito oggi per discutere dell'assestamento della variazione Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2023 Ma anche per il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 Sull'accaduto è intervenuto anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano Che l'ha definita una vicenda paradossale Il Vice Presidente della Regione si è scusato con l'opposizione Ma la stessa ha abbandonato l'aula Ha dichiarato Emiliano Perché la maggioranza non si è votata i suoi presidenti di commissione Lo dico con lo spirito di voler ricomporre i rapporti Conclude, dispiaciuto per quanto avvenuto Bari ha ricordato questa mattina con una cerimonia Benedetto Petrone, militante comunista ucciso da una squadra fascista Nel 46esimo anniversario dell'omicidio Il servizio 28 novembre 1977 Un militante comunista di 18 anni di Bari Vecchia Viene ucciso in un agguato compiuto da militanti dell'Unimento Sociale Italiano Ai piedi del Palazzo della Prefettura Quel ragazzo si chiama Benedetto Petrone Nel corso degli anni, con quel volto replicato su magliette e striscioni È diventato un simbolo dell'antifascismo A Bari, 46 anni dopo, si torna a ricordare quel tragico giorno Che segnò la storia della città Con la tradizionale cerimonia e la deposizione dei fiori da parte dei familiari A rappresentare Regione Comune l'assessore Giannistea e il vice sindaco Eugenio Di Sciascio Oltre ai referenti ampi, con la sorella di Benedetto, Porzia Petrone Che ancora una volta, pur con le gambe sofferenti, è voluta essere in piazza Oggi ancora di più ha ricordato Quel sacrificio non deve essere vano Ormai Benedetto è diventato un simbolo, non è che lo dico io Ma io dico che deve essere... non venissero neanche a me a dirlo Dove c'è pace da mettere le cose belle Che metto nella faccia di Benedetto Dove abito io, 46 anni fa, speciale Era che né le donne né dovevano uscire da quel ghetto Diciamo che era un ghetto Che noi dovevamo passare oltre Le donne addirittura non andavano a parlare E vorremmo digitare la lingua Allora, per mia madre, io e Benedetto Eravamo, e come ora tutto, sono venuta qui Allora io tutte queste cose, la televisione, mi mandano, mi ricordo la guerra, i bambini Non ho cosa che lo dico Allora io voglio che se hanno fatto un simbolo di Benedetto Che sia un simbolo, non ho neanche che me lo chiedano Faccio una bandiera di Benedetto Però dico se è giusto, dico se è bello E cambiamo argomento, piazza del Ferrarese e via Venezia si preparano per il Natale Avvia le operazioni di montaggio del grande albero di Natale e del mercatino Le iconiche casette bianche su via Venezia sono già al loro posto In attesa di essere colorate e animate per l'ormai tradizionale mercatino di Natale Si comincia questo venerdì 1 dicembre con le quasi 90 associazioni di volontariato Che per tre giorni, in occasione della quindicesima edizione del meeting del volontariato Esporranno gadget e manufatti artigianali per i primi pensierini di Natale Preso d'assalto lo scorso anno il mercatino del volontariato Sarà anche occasione per conoscere e informarsi sulle attività Che quotidianamente svolgono le realtà che operano sul territorio Subito dopo, altro giro, altra corsa Si passa direttamente al 6 dicembre Giornata storicamente dedicata nel capologo pugliese All'accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese Di proprietà di Amgas SRL Realizzata grazie al contributo di Megamark Supermercati Doc e Famila In fase di montaggio già da questa mattina L'albero sarà alto circa 16 metri e dotato di oltre 50.000 luci a LED L'effetto scenico è garantito E ancora, gli operai sono a lavoro anche per il completamento del giardino firmato MW Line, l'azienda di Acquaviva delle Fonti All'interno del quale si terranno diverse attività ludiche di animazione dedicate a famiglie e bambini Insomma, anche questo 6 dicembre, giornata dedicata a San Nicola L'amministrazione comunale dare il via a lungo mese di festa dedicato al Natale Le 30 casette su via Venezia ospiteranno il mercatino dell'artigianato di Natale Per il quale sono stati individuati con apposita graduatoria i 30 artigiani espositori Ed è tutto pronto anche per l'accensione delle luminarie nelle vie dello shopping cittadino Ce ne parla Maricla Pastore Un tetto di luci sta per illuminare le strade del centro di Bari Nel periodo più magico dell'anno, quello natalizio In via Sparano sono già terminati i lavori di montaggio dell'installazione delle luminarie di Natale Che rispetto agli anni precedenti e secondo quanto riferito dall'azienda aggiudicataria del bando comunale Paoli Cegli SRL Ha richiesto molti giorni di preparazione Nelle prossime ore toccherà a via Argiro e a via Manzoni Dove verranno posizionati allestimenti natalizi differenti ma con le stesse luci LED L'accensione ufficiale è prevista per la prossima settimana In concomitanza con l'attesissima festa di San Nicola il 6 dicembre E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social per tutte le notizie dal nostro sito www.telebari.it Lo facciamo con Tiziano Tridente Tiziano buonasera Sì eccoci Cristina in primo piano sul nostro sito I lavori di Acquedotto Pugliese che nella giornata di domani potrebbero portare disagi in alcune zone di Palese I lavori riguarderanno il potenziamento della rete idrica e per consentire l'esecuzione Sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione nella zona alta del quartiere Si legge in una nota La sospensione avrà la durata di 12 ore a partire dalle ore 8 di domani e con ripristino alle ore 20 I disagi, viene detto, saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica Con insufficiente capacità di accumulo Sul nostro sito quindi tutte le strade interessate Su telebari.it anche le tante iniziative di Natale che si stanno organizzando nei vari quartieri della città Da Santo Spirito all'Oseto Con letterine dei bimbi consegnate direttamente a Babbo Natale anche a Torre Amare Festa in città ma non solo con tante informazioni che arrivano anche sugli eventi organizzati nei paesi vicini Come Casa Massima dove nella magia del Blue Christmas Per l'accensione dell'albero è atteso anche Gaetano De Caro Il giovanissimo cantante, 17enne, protagonista nelle settimane scorse X Factor A te Grazie Tiziano Andiamo avanti con i nostri servizi Settimana scorsa hai toccato allo stadio olimpico di Roma Adesso il turno dell'Università di Bari per la presentazione del nuovo master in diritto sportivo e management dello sport Sentiamo Dallo stadio olimpico di Roma al dipartimento di giurisprudenza per presentare un nuovo master di primo livello in diritto sportivo e management dello sport L'offerta formativa dell'Università di Bari continua ad espandersi attraverso un nuovo corso di studi Per formare professionisti dell'industria sportiva tra dirigenti di club e consulenti di marketing sportivi Dopo che il coordinatore Domenico Costantino, docente di diritto di famiglia e presidente della commissione esperta tutela minori Ha accompagnato un gruppo di studenti nella capitale per la conferenza in cui è stato annunciato il master Tra foto nei corridoi e persino negli spogliatoi Quest'oggi lo stesso è stato fatto nell'aula Aldo Moro dell'Ateneo davanti ad un folto pubblico di ragazzi In collegamento il direttore legale del Qatar Football Association, l'avvocato Ettore Mazzilli e tanti altri volti dello sport come della comunità accademica Il corso, diviso in moduli, della durata di un anno da seguire sia a distanza che in presenza Abbinando la teoria alla pratica, permette di cimentarsi in ambiti totalmente nuovi Come, ad esempio, la possibilità di sapere come si organizzano grandi eventi internazionali come la UEFA e i giochi olimpici Il mondo del lavoro è alle porte e anche i laureandi devono scegliere quale carriera intaprendere e in quale campo cimentarsi, anche quello da calcio Dallo Stadio Olimpico di Roma all'Università di Bari, com'è nata l'idea di questo master? L'idea del master è nata da una esigenza Il diritto sportivo è cambiato in questi ultimi 30 anni, non può essere inchiuso solo all'interno dell'ordinamento sportivo Ogni anno promuoviamo nuovi percorsi formativi Chissà che nel tempo non maturi questa figura professionale a tal punto da meritare un corso di studio C'è un nuovo disegno di legge regionale sugli interventi di ristrutturazione edilizia Ce ne parla Roberto Maggi Una norma che consentirà l'aumento della volumetria degli edifici esistenti anche fino al 35% Laddove questi siano finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente La Commissione Urbanistica del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge sugli interventi di ristrutturazione edilizia Si tratta in sostanza di dare attuazione al dettato normativo del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia L'obiettivo è quello di favorire la riduzione del degrado urbano e sotto utilizzo degli ambiti urbanizzati già esistenti Contribuendo al contenimento del consumo di suolo Per fare alcuni esempi verranno riconosciuti degli incentivi volumetrici del 20% del totale complessivo e comunque non oltre 300 metri cubi Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti o di 200 metri cubi Se non vi è modifica della destinazione d'uso del 35% in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti Legittimi o legittimati ricadenti nelle zone omogenee B e C da destinare alla residenza Adesso la legge passerà all'esame del Consiglio regionale La compagnia aerea Volotea annuncia l'apertura della sua base operativa Bari per la prossima estate I dettagli in questo servizio Otto nuove rotte, tre delle quali verranno comunicate nelle prossime settimane Per un totale di 18 destinazioni che potranno appoggiarsi sulla nuova base operativa Volotea annuncia i programmi sullo scalo di Bari per l'estate 2024 Una stagione che vedrà gli aeroporti pugliesi sempre più protagonisti dei piani della compagnia spagnola Anche grazie all'aeromobile A320 basato sull'aeroporto Carol Wojtyla Nelle rotte previste dal nuovo programma non mancano anche alcune novità Dal prossimo 4 luglio saranno disponibili i collegamenti verso Tolosa con frequenza bisettimanale E verso Dubrovnik con tre frequenze A partire dal 5 luglio sarà possibile volare alla volta di Comiso e Bilbao con due frequenze settimanali Si chiude con Malaga disponibile dal 6 luglio con frequenza bisettimanale Nelle prossime settimane verranno annunciate altre tre nuove rotte Questo investimento frutto di un lavoro di mesi portato avanti con aeroporti di Puglia Fa prevedere per il 2024 un più 38% in termini di capacità Lanciare una base significa poter offrire a tutti i passeggeri pugliesi in partenza da Bari Migliori orari e una maggiore scelta di destinazioni Ma significa anche per Volotea iniziare a integrarsi ancora di più nel tessuto economico, sociale e anche culturale del territorio E instaurare relazioni ancora più profonde di quelle instaurate sinora Questo è il frutto di un lavoro fatto da tanto tempo La diversificazione delle compagnie dei voli è chiaramente qualcosa che commercialmente conviene E lo sappiamo tutti E un incremento del 38% come diceva la collega di Volotea per i passeggeri di Volotea stessa Però in genere rappresenta un ulteriore incremento di tratte che possiamo raggiungere dall'aeroporto di Bari In aggiunta a quelle già di Brindisi Perché anche su Brindisi loro hanno dei collegamenti Nant e Cagliari che voglio ricordare E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione Il comune di Lecce corre ai ripari con interventi su viali e marciapiedi dopo i danni legati al maltempo Il servizio di Fabio Serino Da poche ore sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale su alcune arterie principali del quartiere Leuca a Lecce Oggetto danni di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per il dissesto stradale Come spesso accade quando si interviene su una delle vie più trafficate della città I lavori si stanno svolgendo e continueranno sempre in notturna La sistemazione delle strade nel quartiere Leuca rientra nel lotto di mitigazione del rischio idrogeologico Infatti proprio in queste zone nelle scorse settimane si sono verificati i disagi per la caduta di alberi di pino a seguito di pioggia e vento Ma non è finita qui Dal comune fanno sapere che in questi giorni inizieranno anche i lavori di riqualificazione ambientale della circonvallazione di Lecce Un'opera pubblica di notevole importanze e di grande impatto che a lavori conclusi garantirà un deciso miglioramento della qualità urbana Con positive ricadute sul tessuto sociale e ambientale Il sindaco inoltre ci tiene a sottolineare che la circonvallazione oggi è una strada a scorrimento veloce per le auto E in gran parte inaccessibile alle persone con disabilità Anche il verde presente sui viali della circonvallazione sarà riqualificato e dove necessario sostituito Sono stati censiti 383 alberi lungo il perimetro della circonvallazione Rilevandole la stabilità e lo stato fitosanitario L'esame ha evidenziato la necessità di sostituirne 106 e a loro posto saranno piantate 165 nuove alberature Da oggi l'amministrazione comunale chiede ai cittadini un po' di pazienza per eventuali disagi di viabilità Per una lecce più sostenibile e sicura Il Consiglio Comunale di Brindisi si è aperto con le critiche nei confronti del consigliere Cesare Mevoli Dopo i suoi attacchi alla sorella di Giulia Cecchettin e alle femministe Ma le sue scuse non sono arrivate Sono contento anche del pensiero dei colleghi superati Perché ha messo in sciocco perché lui ha fatto la foto Ci matta soltanto una cosa se chiede scusa alla nazione a terra per quello che era dichiarato su Facebook Bufera in Consiglio Comunale a Brindisi Dove vari esponenti dell'opposizione ed uno della maggioranza Hanno attaccato il consigliere Cesare Mevoli Ormai noto alle croniche nazionali per le sue affermazioni sui femminicidi E sulla sorella di Giulia Cecchettin Ad intervenire Lino Luperti, l'ex sindaco di Brindisi Riccardo Rossi Roberto Fusco e il consigliere di Fratelli d'Italia Roberto Quarta Tutti hanno preteso le scuse del consigliere Mevoli Che non sono pervenute Io spero che il mio collega Mevoli faccia un atto di unità E fa il tempo a far chiedere scusa per quello che è accaduto Ci spostiamo adesso nei 5 reali siti a Carrapelle Per raccontare la storia di un artigiano di 74 anni che sta realizzando un presepe meccanizzato di 15 metri per avvicinare grandi e piccini Ci racconta tutto Nicola Saracino Una tradizione che coinvolge grandi e piccini a portare avanti quella del presepe a Carrapelle C'è un signore di 74 anni, artigiano per passione da una vita Che ne sta realizzando uno meccanizzato di ben 15 metri Si chiama Onofrio Parrella, è presidente del Circolo Acre di Carrapelle E sta mettendo a punto la maestosa opera in un palazzo storico di Carrapelle Con l'intento di avvicinare grandi e piccoli a questa tradizione che si sta un po' perdendo La passione viene da quando avevo 8 anni, facevo la seconda elementare, la terza elementare Perché mio padre già negli anni 60 faceva dei presepe a Carrapelle abbastanza grandi E io l'ho preso la passione del presepe Ho notato anche in questi anni che ho fatto questi meccanizzati sia a casa sia quando l'ho fatto l'aglio Che i bambini vengono attratti dai movimenti Vedere un presepe fisso, loro non vengono attratti Invece quando ci sono i movimenti vedo che sono partecipi da là E ho questa passione per i movimenti E sono i movimenti che faccio, li faccio tutti I presepi del signor Parrella, che può contare sull'aiuto di alcuni anziani del posto Sono tutti realizzati con materiale riciclato Il presepe meccanizzato di 15 metri sarà pronto prima di Natale Ma il signor Onofrio è pronto a battere il record e realizzarne uno ancora più grande Il prossimo anno Presentato ad Alberobello il cartellone degli eventi natalizi in programma A partire già da sabato prossimo, 2 dicembre Il servizio di Francesco Russo Si chiama We Are In Truly Christmas Edition Il palinsesto di iniziative per il Natale ad Alberobello all'insegna della comunità Lo spirito deve essere questo, proprio quello di una città che in queste occasioni deve un po' ricompattarsi Un senso di recupero di questi valori Perché questi sono dei valori, quello dello stare insieme, del frequentare dei posti che non si fanno ordinariamente Musica, sport, eventi per i bambini e arte con il Locus Festival Con una mostra dedicata, Muse, del Ministero, alle filmmaker, quindi alle registe Attraverso l'illustrazione fumettistica che è un altro dei nostri eventi clou dell'anno che si tiene a marzo C'è il ritorno dell'Alberobello Light Christmas con le proiezioni sui trulli Che tratteranno vari temi, da quello dei bambini a quello delle illustrazioni di trulli E dell'immagine di Alberobello in quest'anno nel mondo Clou l'appuntamento con il presepe di luce da domenica 3 dicembre E il presepe vivente a fine dicembre con un tema che guarda la situazione politica internazionale E' proprio fiorire lì dove Dio ci pone Non è facile fiorire molte volte in luoghi che non sono quelli che noi vorremmo E non parliamo soltanto di luoghi geografici ma di luoghi dell'anima, luoghi del lavoro, luoghi degli affetti E quindi ecco un'immersione in una riflessione che ci ricorda che il primo che ha deciso di fiorire Anche in un luogo magari non consono alla sua regalità, al suo essere grande Cioè un Dio che è venuto a fiorire in una mangiatoia tra la paglia E per questa edizione del TG Serra è tutto, grazie per averci seguito Buon proseguimento di serata Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì Che tutto sommato sarà una giornata discreta di tregua Si allontana la perturbazione che è già transitata sull'Italia In attesa di nuovi sistemi nuvolosi atlantici che arriveranno poi a partire da giovedì Per quanto riguarda nuvolosità notiamo infatti ampie zone di sereno sull'Italia Qualche nuvolamento ancora insiste sul basso Tireno E qualche nuvola lambisce il medio adriatico Ma tutto sommato situazione discreta Anche come precipitazioni poco da segnalare Si qualche pioggia sfiora le regioni del medio adriatico e il basso Tireno Insomma in corrispondenza della nuvolosità che vi ho indicato prima Ma non saranno precipitazioni particolarmente diffuse E non mancheranno in tutta Italia davvero ampie schierite Quindi giornata più che discreta Come vedete abbiamo voluto indicare ancora appunto qualche piovasco sul basso Tireno Qualche nuvola poi a fine giornata si riaffaccia all'estremo nord ovest Ma giornata buona, temperatura al centro-sud anche piacevoli Superiamo i 15 gradi Ancora un po' di vento ma tende ad attenuarsi Per tutti e tali sulle vostre località Anche per i giorni successivi consultate l'app di Trebi Meteo Anche per i giorni successivi Anche per i giorni successivi consultate l'app di Trebi Meteo